Con la salto del CRC 2 a 0, una partita controllata prettamente al centrocampo con il muro di Makarenko e Bitoschischi, sin da subito una partita sbloccata al sesto minuto, avete fatto fatica a trovare il raddoppio nel secondo tempo e siete entrati sotto tono rispetto agli avversari all'inizio della ripresa. Sì, diciamo che loro sono una squadra molto rapida, giovani e quindi rientrando dall'Intervallo ci hanno un po' messo in difficoltà, però poi piano piano siamo riusciti a riprendere i retini della partita e a portarla in bordo, insomma con un secondo gol che ci ha messo in tranquillità. Buoni cambi all'inizio della ripresa, un Kalinic indiavolato, ha tentato più volte di trovare il doppio vantaggio prima del gol di Romani, è arrivato di fatto con il suo assist per rire mancata da parte di Manco. Sì, devo dire che Yuri Kalinic sta giocando molto bene in questo periodo, è rientrato dopo una fase un po' alterna, insomma non aveva più la brillantezza di qualche tempo fa, adesso invece è di nuovo grande spolvero e insomma l'ha fatto vedere anche stasera, nonostante i ragazzi fossero molto giovani in difesa e veloci, lui spesso è riuscito a superare in velocità e ad andare sempre uno contro uno e alla fine poi è riuscito anche a fare l'assist per il secondo gol, molto importante per noi. Ringraziamo Colosanto per l'intervento post gara e gli auguriamo un buon proseguimento di Corneo. Grazie e altrettanto arrivederci.